Ben trovati, buona settimana a tutti da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. L'anticiclone che ci interessa da parecchio tempo è ancora in grado di proteggere la Liguria per la giornata di oggi lunedì. Domani martedì invece accederà il passo all'ingresso di correnti umide meridionali che precedono una perturbazione atlantica attesa per mercoledì e che riporterà la pioggia nella nostra regione. Il dettaglio oggi lunedì 28 marzo ancora una giornata serena sulla Liguria con venti deboli meridionali, brezze costiera levante, mare localmente mosso, incalo fino a poco mosso, temperature massime in aumento lungo la costa tra 22 e 24 gradi nelle zone interne tra 18 e 22 gradi. Domani martedì 29 marzo già al mattino velature, locali addensamenti sul centro ponente, successivo aumento della nuvolosità fino a condizioni di cielo molto nuvoloso coperto in serata, venti dei quadranti orientali in rinforzo fino a moderati, mare poco mosso in aumento fino a mosso, temperature in calo minime lungo la costa tra 11 e 13 gradi nelle zone interne tra 0 e 4 gradi, massime lungo la costa tra 15 e 18 gradi nelle zone interne tra 13 e 17 gradi. Dopodomani mercoledì 30 marzo fin dalla notte deboli piogge sparse che si faranno diffuse persistenti soprattutto a Levante dove saranno possibili rovesci al più moderati, venti moderati orientali in rotazione da settentrione, mare mosso, temperature minimi in aumento lungo la costa tra 13 e 15 gradi nelle zone interne tra 5 e 10 gradi, massime in calo lungo la costa tra 14 e 17 gradi nelle zone interne tra 7 e 13 gradi. È tutto, seguite i ragionamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal, sul profilo instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!